Tutto è pronto a Barletta per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono. Domani 30 dicembre la città della disfida festeggerà San Ruggero. Lo farà con il solito e ricco calendario d'appuntamenti. Si partirà alle 11 di domattina con la solenne concelebrazione eucaristica preseduta dal cardinale barlettano Francesco Monterisi e dal vescovo dell'Arcidiocesi di Trani, Barletta e Biceglie, Monsignor Giovanni Battista Picchieri. Dalle 16 alle 21 presso la Galleria del Teatro Curci in vetrina l'annullo filatelico straordinario di poste italiane a cura del Comitato Italiano Procane della Battaglia. Alle 20 la Santa Processione con partenza dalla Concattedrale di Santa Maria Maggiore sosta con preghiera sul sagrato della chiesa di San Gaetano e fermata alla chiesa di San Ruggero. E poi alle 21 e 30 lo spazio dedicato ai fuochi d'artificio e alle 22 e 30 sulla piazzetta del Monte di Pietà lo spettacolo musicale della band Live Music a Di Capongo ospite d'eccezione Maria Piazzolla direttamente da Amici e da Saremo Famosi 2003.